Ma alcuni brani sì, dopo domenica, ma anche a casa, potete leggervelo, anzi ve lo consiglio, proprio come preparazione per la settimana santa, no? Leggetevi il testo, imparate a leggere il testo, perché di solito noi andiamo via con la nostra testa, diciamo male cosita, tutto fa brodo, è tutto stesso, no? No, dai, siamo delicati anche noi, impariamo a leggere, non facciamo dire a un evangelista quello che non ha mai detto, quello che non ha mai neanche pensato, neanche sognato, vediamo allora alcune cose. Sì, poi leggiamo, leggiamo, io magari vi faccio notare, mentre, eh? Mentre egli ancora parlava, ecco una turma di gente, gli precedeva un lui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, e si accostò a Gesù per baciarlo. Vedete, si accostò a Gesù per baciarlo, non lo bacia, si accostò a Gesù per baciarlo, mentre invece gli altri evangelisti diranno, e lo baciò, non glielo permette a Luca questo bacio. Gesù gli disse, Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero, signore, dobbiamo colpire con la spada. E uno di loro colpì il servo del suo sacerdote, e gli stacco all'orecchio destro. Ma Gesù intervene e dice, lo lasciate, basta così. Il prefatto è di l'orecchio, lo guarì. Bellissima anche questa puntualizzazione. Vi dicevo che San Luca ha tutta una sua spiritualità, teologia, ma anche una sua concezione della vita. No alla violenza. Vi dicevo prima, San Luca non fa flagellare Gesù. Accenna, ma non inducia sulla flagellazione, a ribrezzo di qualsiasi violenza. E quindi, anche dinanzi a un tentativo di violenza, si oppone, e non solamente, notate, qui c'è la non violenza totale del Vangelo, di questo evangelista, e poi anche la ricostruzione, quando la violenza avviene. Non è sufficiente dire, non vogliamo la violenza, ma dobbiamo anche imparare, come discepoli del Signore, a ricostruire, quando la violenza ha distrutto. Prende l'orecchio e lo rimette lì. Non è il miracolo che San Luca vuole sottolineare, assolutamente. Vuole indicare un cammino che la Chiesa deve percorrere. No alla violenza, in nessun caso. E quando la violenza è fatta, mettiti come il Maestro, davanti a questa violenza, e ricostruisci, paga i danni! La violenza non può avere il sopravvento sul mondo. Paga i danni! Ricostruisci! Rimetti proprio a posto quell'ordine che la violenza è stata capace di distruggere. Ma capite? C'è proprio qua una spiritualità profonda e un cammino veramente unico che la comunità cristiana deve imparare. E noi discepoli siamo parte di questa comunità e dobbiamo imparare. Eccolo perché racconta la passione. Capite? Non gli interessa allora raccontare e basta, dire, oh povero Gesù, non è una devozione. San Luca non racconta la devozione, ma racconta il mistero. E racconta allora la comunità che deve entrare in questo mistero e imparare a vivere. Un modo differente di vivere proprio partecipando del mistero. Poi Gesù disse a coloro che vi erano vivuti contro, solo i sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e anziani, siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante? Ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete steso le mani contro di me. Ma questa è la vostra ora, è l'imperante di Tempio. Questo è San Luca. E' Giotto questo qua, eh? Chi è andato al cappello degli Suloveni si ricorda benissimo una delle opere d'arte così. Ecco, ringraziamo questi geni, questi geni. Questo è San Luca. Aveva ben presente e si avvicinò per baciare, ma non lo bacia. Luca non permette il tradimento, il fare il prezzo. Però allo stesso tempo ti dice, guarda discepolo, guarda che puoi essere anche tu come Giuda. Quindi stai attento. Non lo commentiamo nello signore. che sarebbe la commentare, ma... Un altro momento della passione è proprio il momento del tribunale, diciamo così. O meglio, dei tribunali. Sono due i momenti del processo di Gesù. Qua mi permettete. Gavio sono attento. Ci siamo ancora? Quante autonomie avete prima di indormersarvi dal tutto? 30 minuti. 30 minuti. 30 minuti. Ora qualche minuto. Dai! Stiamo attenti che le robe belle queste qua, eh? Anche perché, ripeto, delle volte facciamo tutto quanto, tutto fa brodo. No! Ci sono dei particolari stupendi. Ci sono due processi di Gesù, eh? Gesù viene processato civilmente, meglio prima, religiosamente e poi civilmente. Sono i due processi. Gesù deve essere messo a morte dallo Stato, eh? Roma. Ma è condannato religiosamente dai giudei prima. e allora va davanti al giudice, va davanti a chi lo condanna. E quale sarà la condanna? Ti sei fatto Dio. Questa è stata la grande condanna. Ha presentato un Dio differente da quello che è la Torah. E non solo, ma ti sei fatto Dio, ti sei messo al posto di Dio. Questa è la grande condanna. L'ascolteremo adesso. Mi pare, eh, l'ascoltiamo Silvia. Che hai letto? No. Il testo no. No, non c'è il testo. Ve lo legisci a casa. Va bene. Secondo, va davanti a Pilato. Non va incatenato, ve lo dicevo prima. Notate questi particolari. Non ci va incatenato. Luca ha ribrecchio di questo. Va davanti a Pilato, ma il Pilato di Luca, non è il Pilato di Giovanni. Pilato di Giovanni è quello che cerca la verità. Che cos'è la verità? Ricordate? Il Pilato di Luca è totalmente differente. È quello che per tre volte cerca di liberare Gesù. non è il giudice, è il testimone dell'innocenza di Gesù. Notatelo questo. È molto importante. Pilato rappresenta chi si lascia toccare da questo maestro che è innocente. Per tre volte ripete. È innocente. È innocente. Non trova niente contro di lui. Non trova niente contro di lui. Lo manda anche da Erode. Erano nemici. Va da Erode. E quando ritorna da Erode, Pilato ancora dice anche Erode ha solamente verificato quello che io posso testimoniare. È innocente. Pilato non è giudice. Nel Vangelo di Luca Pilato è solamente il testimone dell'innocenza di Gesù. a